Dottore, situazioni infortunate che preoccupa la Sampdoria, davvero quest'anno si è andati oltre i più negativi limiti, oggi anche Padalino, come sta intanto Padalino? Padalino ha avuto un fastidio all'inguine che andava crescendo, però non sembra una cosa seria, per cui vediamo di riuscire a recuperarlo il più presto possibile. Una cosa temporanea diciamo? Sì, 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 è fortuna, non ci sono stati altri infortunati a parte qualche botta, qualche acciacco, Castaldello ha fatto bene, ha recuperato bene, vediamo. A qualche Cassano è stato soccorso nell'arco della partita, cosa è successo a Cassano? Aveva mal di stomaco, nausea, probabilmente aveva bevuto qualcosa di ghiacciato o di freddo, però poi si è ripreso bene, è stato sostituito perché era stremato, perché comunque ha corso tantissimo e basta tutto lì. Ecco, altre situazioni che potevano preoccupare, ad esempio Franceschini oggi non ha giocato, che cosa aveva lui? Aveva un affaticamento muscolare, insomma, in considerazione che abbiamo una partita dietro l'altra, si è preferito non rischiarlo. Quelli che invece sono rimasti a Bogliasco, a Cardi, Campagnaro e Raggi, come stanno? Stanno proseguendo la fisioterapia e gli allenamenti, qualcuno si sta già allenando e vedremo quanto prima di riuscire a rimetterli in gruppo. Per quanto riguarda i tempi non possiamo ancora sbilanciarci, dottore? No, 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 non possiamo dire ancora niente. Ultimissima cosa, tutti questi infortuni c'è una causa oppure è davvero solo frutto del caso, secondo lei? Beh, qualcuno sono stati dei traumi diretti, qualcun altro sicuramente hanno giocato, sono tanti giocatori che hanno giocato tantissime partite, ogni tre giorni è difficile, ogni tre giorni tenere il ritmo, non puoi allenarti con costanza. Quindi è chiaro che sei più esposto agli infortuni, non è solamente il caso nostro, sono tante altre squadre che hanno la stessa situazione e non a caso sono le squadre che stanno giocando il mercoledì e la domenica. Una situazione diciamo normale, tra virgolette, insomma, comunque prevedibile. Prevedibile, prevedibile sicuramente, ci può stare. Angelo, ci voleva oggi davvero questa vittoria importante per classifica e morale? Ma soprattutto, sì, ho detto bene, classifica e morale, questa è tanta manna dal cielo, ora dobbiamo continuare così, non abbiamo fatto nulla e speriamo ora, già in domenica, di portare a casa qualche altro punto perché per la zona in cui siamo ci serve. Senti, cambia qualcosa dopo oggi o comunque la Samp deve rimanere molto concentrata? No, no, deve rimanere concentrata e giocare come oggi, quindi non deve cambiare una virgola, anzi, ora che abbiamo fatto una vittoria dobbiamo continuare. Senti, invece di migliorare la situazione di infortuni purtroppo peggiora, anche Padalino oggi è scelto dal campo, quindi davvero sfortunata la Samp. No, è proprio un anno maledetto, guarda, non ho parole adesso, non penso si tratti di preparazione o di altre cose, è proprio un anno così. E tu hai una battuta sul grande gol di Cassano, ha fatto veramente una cosa incredibile oggi. Io quando poi ho saputo che mercoledì sarebbe stato a disposizione, ero l'uomo più felice del mondo perché so quello che può dare a questa squadra e poi ha fatto un gol straordinario. Quindi quando hai questi campioni davanti, vabbè, vai alla grande. Un'ultima cosa Angelo, sui tifosi, prosegue, insomma, diciamo, tra virgolette protesta, insomma, non siete andati neanche oggi sotto la curva? No, 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 ma assolutamente non c'è nessuna protesta, né Astio, né nulla. Anche questo delle cose, noi rispettiamo la loro opinione, però come vedete anche oggi ci hanno dato una mano, una grossissima mano. L'unica cosa che mi dispiace è che parlando con Castellazzi c'era un gruppetto lì proprio dietro la porta che lo insultava e questo non è una cosa bella. Adesso fin quando si perdono le partite è giusto, ma così gratuitamente non va bene. Grazie a tutti.